Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, il talento per potersi esprimere ha bisogno di un ambiente che gli dia delle opportunità. Ebbene, secondo me Hans Niemann sta mettendo in dubbio il sistema di attribuzione di punteggio della fide o per come è stato pensato. E perché lo sta mettendo in dubbio? Perché Niemann sta facendo qualcosa di estremamente intelligente. Ovvero, Niemann dice questo, Voi non mi invitate ai tornei più importanti? Io sono costretto a giocare contro avversari che hanno meno punti di me? Bene, io intanto vi mostro che sono molto forte a scacchi e che salgo lo stesso anche in quel modo. Ovviamente piano piano, cioè 18 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte e sale di 3 punti, cioè un niente. Però ragazzi cosa faccio? Ora creo un mio progetto, vado a sfidare gli scacchisti, quelli veramente forti, quelli veramente bravi, anche più bravi di me sulla carta. Vado nelle loro case, quindi se Giri vive in Olanda vado in Olanda a sfidare Giri. E se Giri accetta gli faccio vedere il mio talento e quanto sono bravo a scacchi. Ed è proprio quello che sta facendo. Cioè Hans Niemann è il numero 24 al mondo. Ragazzi numero 24 al mondo, diamo le opportunità alle persone per far sì che possano dimostrare quanto valgono realmente. Cioè molti di voi hanno sempre offeso Niemann. È uno scarzone, numero 70 al mondo, numero 50, non se la può giocare con i migliori. Aspetta perché forse questa storia vi farà ricredere. Guardate Niemann più 7 punti, sta battendo Giri 2 e mezzo a 1 e mezzo. Quindi gli sta mangiando punti più 7. Vedete quanto è facile salire in questo modo? Più 7. Cioè se dovesse vincere un'altra partita o altre due partite ritroviamo Niemann in top 20 al mondo. Top 20 al mondo. Poi qui onore anche a Giri che si è messo in gioco contro Niemann. Giri dovrebbe dimostrare di essere superiore. Niemann l'ha già battuto nelle partite blitz. Lo sta battendo nelle partite a tempo lungo. Poi mi sa che ci saranno anche le rapi. Cioè Niemann lo batte in tutte le cadenze. E qualcuno mi vuole venire a dire che in pratica Niemann è più scarso di Giri solo perché Giri gli sta sopra nella classifica mondiale. Ma come fa Niemann a dimostrare di essere più bravo degli altri se non ci può neanche giocare contro gli altri perché altrimenti Carlsen dice vabbè se Niemann gioca io ragazzi non vengo al torneo. Cioè avete capito? Uno per esprimere il suo talento deve avere delle opportunità. Cioè l'ambiente gli deve permettere di esprimerlo. Ora qui abbiamo preso Niemann come esempio ma questo vale per tutti. Pensate a quanti possibili talenti ci sono a giro per il mondo negli scacchi, nel calcio, in matematica, in tutti gli ambiti ma che non possono esprimere per qualche motivo il loro talento. Perché qualcosa glielo impedisce. Questo qualcosa è appunto l'ambiente. È l'economia. Questa è una storia incredibile questa di Niemann. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, se si suono al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui. Ora andrò a mostrarvi una partita veramente assurda. Cioè partita ci sono rimasto malissimo in questa partita. Cioè Niemann arriva a giocare con un pezzo in meno poi rimane senza pezzi e vince la partita. Partita a tempo lungo, quindi un'ora e mezzo più incremento. E il modo in cui Niemann ha pensato la sfida mi piace tantissimo. Se tu vuoi dimostrare di essere più forte dell'altro lo dimostri in tutte le cadenze. Più lealtà di così non esiste. Niemann apre con pedone 4, Giri risponde con c5, difesa siciliana, segue il cavallo f3, pedone d6, pedone d4. Quindi siciliana aperta, Giri gioca a cavallo f6, attacca il pedone in e4, Niemann risponde con cavallo c3, difende, Giri gioca a pedone a6. Rientriamo lena Neidorf, Giri è un esperto di Neidorf. Niemann però lo è altrettanto. Gioca al fiere d3, segue pedone 5, Giri attacca il cavallo, Niemann ritira il cavallo in e2 per avere la possibilità di spingere il pedone in f4 e Giri gioca al fiere e7, prepara arrocco corto. Segue arrocco per Niemann, al fiere e6 per Giri e Niemann gioca f4. Quindi come vedete è un Niemann aggressivo, vuole attaccare. Giri mette il re al sicuro con arrocco e Niemann gioca pedone a4. L'idea di pedone a4 è di prendere spazio sul lato di donna con a5, con cavallo a4, cavallo b6 oppure al fiere in e3, al fiere b6. Questa è una casa debole per il nero. Giri gioca donna c7, Niemann continua con re h1, bellissima, questa nostra mi piace tantissimo. Profilassi, in pratica Niemann qui si prepara poi in futuro anche a spingere il pedone e attaccare sul lato di donna, ma intanto mettere al sicuro. Segue cavallo d7, al fiere e3, bella, eccola lì. Ora gli manca solo a5 per poi giocare eventualmente al fiere b6. Giri gioca torre c8, torre su colonna semiaperta e Niemann gioca a5. Arriva torre in e8, pedone h3. Con pedone h3 Niemann impedisce mosse come cavallo g4, Giri gioca h6 via di fuga per il re e Niemann continua con donna e1. Ora con donna e1 sta cercando attività sul lato di re. Quindi cosa vuole fare? Ad esempio donna g3, pedone per, alfiere per h6 e donna per g7 scacco matto. Questo è un possibile piano. Giri salta con il cavallo in c5 e vuole togliere la coppia degli alfieri. Niemann continua con il suo piano, donna g3. Segue cavallo h5, il cavallo attacca subito la donna e Niemann la porta in f2. Giri allora cattura in f4, segue alfiere per f4, cavallo per f4, cavallo per f4. Qui diciamo che Giri è stato molto bravo perché ha tolto l'alfiere camposcuro a Niemann, che era un bel pezzo, che poteva eventualmente attaccare l'arrocco. E poi gioca alfiere in d8. Questa è una mossa particolare che previene cavallo d5, quindi Giri non voleva perdere l'alfiere. Niemann poteva saltare con entrambi i cavalli in d5 e Niemann appunto gioca cavallo d5. Giri sposta la donna e Niemann viene con la donna in d4. Quindi come vedete sta prendendo di mira il re comunque. Giri cattura il cavallo, gioca la mossa migliore. Segue cavallo per alfiere, donna e6 e donna in b4. Con donna e6 Giri sta attaccando il pedone in e4, però Niemann contraattacca il pedone in b7. Eventualmente sui vari cambi cadrebbe magari il pedone in b7 con tanto di attacco sulla torre. Qui Giri continua con donna in g6, è una mossa un pochettino strana. Continua a mantenere la pressione. Ovviamente Niemann non può spingere perché cade l'alfiere e poi chiaramente la torre può catturare. Ma Niemann gioca a torre f3. Ora con torre f3 sta difendendo e sta preparando torre f1. Vuole raddoppiare le torre e cercare di attaccare. Segue torre in f8 per Giri, quindi si ritrova a dover difendere. Niemann gioca appunto a torre f1. Alfiere in g5, torre g3. Ora con torre g3 Niemann sta attaccando a raggi x la donna. Giri sposta la donna in e6 e Niemann gioca a donna d4 di nuovo. Sta amminacciando lo scacco matto, quindi vuole giocare pedone in h4 su alfiere per dare scacco matto in g7. Giri gioca a g6. E g6 è un errore perché sta scoprendo troppo ai re e ora la donna del bianco è molto attiva. Quindi come vedete sono partite a tempo lungo, però sono esseri umani, qualche errore lo commettono pure loro. Giri probabilmente non si aspettava la prossima mossa di Niemann. Niemann qui decide di sacrificare la qualità. Mossa geniale, torre per alfiere. Segue pedone per, cavallo f6 scacco, re in h8 e cavallo d7 scacco. Quindi Niemann sta dando scacco e sta per recuperare indietro la qualità. Dopo pedone f6, Niemann recupera la qualità e rientriamo in questa posizione che probabilmente Giri aveva valutato come posizione di parità. In realtà il bianco sta meglio perché il bianco è colui che sta mettendo pressione nella posizione. Segue alfiere c4. Guardate che bella questa mossa, questa è proprio devastante. Niemann ragazzi, cioè fa impressione, mi fa paura Niemann. Karsen ha detto che quando si incontreranno il 6 settembre, vi ricordo, ci sarà Niemann contro Karsen. Karsen pensa che dovrebbe riuscire a vincere abbastanza facilmente se Karsen dovesse essere in forma. Io non ne sono così sicuro, ok? Perché Niemann sta dimostrando di giocarsela con i migliori al mondo. Quindi con Wesley Sova, Sherlock Grav, Anish Giri. E allora se la può giocare anche contro Karsen. Sarà veramente una bella sfida da vedere. Però ecco, guardate che mossa ragazzi, alfiere c4. Su donna per segue, donna per d6 ha un attacco sulla torre. Quindi Giri ritira indietro la donna in e7, Niemann gioca alfiere d5. Da d3 l'alfiere è finito in d5, quindi si ritrova con un alfiere attivo. Giri viene con il cavallo in e6, Niemann gioca donna b6. Segue cavallo f4, donna per b7. Intanto Niemann guadagna un pedone. Giri sposta la donna in e5, Niemann guadagna un altro pedone. Cioè, io penso che questa partita sia finita, eh. Cioè, questo pedone è fortissimo, un pedone passato. Niemann ha un alfiere fortissimo anche. Io, cioè, non penso che il nero possa fare qualcosa. Giri gioca a pedone f5, il tutto per tutto. Niemann ritira la donna in c4, difende l'alfiere, difende in e4. E Giri continua con cavallo h5. Vuole dare scacco per guadagnare la qualità. Niemann però sposta la torre in f3. Segue cavallo in g3, scacco, reggi 1 e pedone in f4. Ora, cosa spera di fare Giri? Spera di poter entrare e di attaccare il re e di dare magari scacco matto. Però Niemann viene con il re in f2, gioca la mossa migliore. In questo modo, Giri non lo può attaccare in prima traversa, ad esempio. E allora Giri gioca a re h7, segue a pedone c3. Donna in e7 e Niemann gioca donna b4. Con donna b4 prepara il cambio delle donne. Vuole semplificare, dato che ha la maggioranza pedonale sul lato di donna. Ha due pedoni in più. E Giri qui gioca a g4. Ok, allora la posizione qui è abbastanza tesa. E questa partita mi ha veramente scioccato. Perché Niemann qui, ragazzi, non se ne frega dell'attacco sulla torre. Qui una delle mosse migliori è pedone per g4. E il bianco vince. Invece Niemann lascia addirittura la torre in presa. Cioè fa un calcolo pazzesco, non so se vi rendete conto. Perché qui Giri cattura, segue alfiere per, pedone per torre, pedone per. Quindi Niemann calcola che in questa posizione, sacrificando una torre netta, riesce comunque a vincere la partita. Pazzesco. Cioè incredibile. Un calcolo assurdo in pochissimo tempo. Quindi Giri qui gioca a pedone d5. Niemann riprende di alfiere. Segue cavallo in h5. Giri vuole rientrare con il cavallo, vuole far fuori l'alfiere. Niemann spinge in h6. Il bello è che la casa dove il pedone andrà a promozione coperta dall'alfiere. Allora Giri attacca l'alfiere. Segue alfiere c6. Cavallo in e8. Con cavallo e8 Giri vuole saltare in c7. Quindi ha fatto un bel calcolo. Sta andando in difesa della casa in a8. Qui Niemann spinge in b4. Giri gioca a cavallo c7. Segue pedone b5. Torre in f6. Pedone in a7. Ora qui Niemann sta per andare a promozione. O sta per giocare pedone in b6. Attaccando il cavallo. E su cavallo in a8 pedone b7. Quindi qui sarebbe partita vinta. Allora Giri è costretto a dare via la torre. Segue pedone per. Come valutare questa posizione? Ve lo dico io. È una posizione completamente vinta per il bianco. Cioè ha rischiato ad entrare in un finale del genere. Niemann qui gioca con un pezzo in meno. Ma vince la partita. Questa è una partita storica ragazzi. Cioè questo è il talento. Questo è il talento negli scacchi. Segue pedone g5. Re in e2. Ovviamente il re deve andare a supportare. Quindi i due iniziano a mobilitare i re. Giri qui copre la casa in b6. Niemann gioca c7. Sacrifica un pedone. Giri viene ad attaccarlo. Niemann va a promozione. Segue re per pedone. E re c6. Beh cosa fare ora? Perché Niemann qui ha un pedone passato. Allora Giri gioca cavallo c7. Niemann spinge il pedone. Cavallo in e8. Niemann spinge il pedone. E dopo re in d8. Niemann gioca tranquillamente re b7. In questa posizione. Giri decide di abbandonare. Questa è una partita meravigliosa. Cioè è una partita incredibile. Perché abbandona qua? Cosa può fare? Se continuo a giocare cavallo c7. Posso dare ad esempio lo scacco qui. E se il re dovesse catturare. Cade il cavallo. Vado a promozione. Se il re dovesse difendere. Vado comunque a promozione. Se catturi di re. Catturo e vado a promozione. Se catturi di cavallo. Vado direttamente a promozione. E vinco la partita. Cioè in questa partita. Niemann è stato un fuori classe. Io vi faccio vedere la precisione di questa partita. 96.3 per Niemann. 89.9 per Giri. Ma come scusate. Giri ha un sacco di punti in più rispetto a Niemann. A questi livelli. Ho sempre sentito dire. Che mamma mia ragazzi. A questi livelli. 20 punti in più. Sono una cosa incredibile. Una cosa assurda. Sono tantissimi. Non è vero. Non è vero. Dipende da molti fattori. Ragazzi. Non è vero. Niemann pare. Che abbia trovato la formula segreta. Per poter migliorare a scacchi. In realtà l'ha copiata. L'ha copiata da altri. L'ha copiata da Kamura. L'ha copiata da altri. Perché l'ha detta anche davanti a tutti. L'unico modo per poter migliorare realmente a scacchi. È quello di giocare tantissimo. Senza mai fermarsi. È quello che fa Niemann. Niemann è il giocatore che fa più tornei a tempo lungo di tutti. Quindi giocare tanto senza mai fermarsi. E ovviamente avere degli istruttori che ti aiutano. Quindi Niemann fa 12 ore al giorno di scacchi. E in queste 12 ore chiaramente gioca tanto. E prende anche delle lezioni. Avrà degli allenatori che lo seguono. Come fa Niemann a fare tutto questo? Beh ovviamente ha anche la disponibilità economica per farlo. E quindi è fortunato da questo punto di vista. E ora Niemann sta dimostrando al mondo cosa bisogna fare per diventare bravi a scacchi. Vedete la determinazione cosa riesce a fare oppure no. Cioè è assurdo ragazzi quello che è successo. Due anni fa lo offendevano. Lui dice io me le sento tutte qui queste offese. Mi sono rimaste qui dentro. Dimostrerò al mondo cosa significa giocare bene a scacchi. E lo sta dimostrando. A voi i commenti. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere un piaccio e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.